Bentornati su Imperium, oggi vi volevo parlare di un aggiornamento che è stato pubblicato qualche giorno fa ovvero siamo passati dall'1.52 alla 1.53 e volevo riportarvi le modifiche che sono state apportate sono state apportate delle modifiche alle avventure ovvero che ne so ad esempio il figlio di Anku dato che il testo dell'avventura era totalmente in italiano è stata tradotta mettendola pure in lingua spagnola. Poi invece per strategia online eccetera eccetera sono state messe nelle mappe predefinite, svariati scenari, sono stati messi penso un po' di scenari per il competitivo e altre cose varie. Invece sono state apportate altre traduzioni, sono stati risolti diversi bug che erano stati segnalati dagli utenti e bom direi. Poi la velocità di default era settata a 100% quando iniziavamo una partita invece adesso l'abbiamo cambiata, l'abbiamo messa a 140% penso che sia la velocità utilizzata per i giocatori competitivi di Imperium almeno non perdono tempo a cambiare la velocità di gioco poi riparare le porte, quando una porta era distrutta ripararla costava 500 d'oro adesso costa solamente 100, quindi praticamente pochissimo poi sopra come avevate notato già nella 1.52 c'era in alto a destra c'era la casellina della Kill Death Radio questa casellina adesso si può togliere cliccando su F4 bom ora direi di vedere le modifiche apportate ai popoli ci dirigiamo verso il mercato attira la popolazione, ovvero porta 100 unità la popolazione della fortezza costava 3000 prima, adesso ne costa solo 1500 ora, ci dirigiamo nel Tempio Legione Sacra, che prima costava 4000, ovvero consente di equipaggiare i nobili nel Tempio dai suoi 4000 ne costa 3000 ora Forza Condivisa, ovvero se hai più di dolci guerrieri di un determinato tipo quelli nuovi che recluti saranno di livello 6 prima costava 2000, adesso è stata ridotta a 1000 Trionfo Condiviso, che sarebbe la tecnologia successiva a Forza Condivisa che praticamente sei oltre 24 guerrieri di un tipo quelli nuovi che recluti saranno di livello 12 dai suoi 2000 che costava è stata ridotta a 1000 poi, la scuola di Maut ovvero aumenta di 1 il numero di elefanti che puoi avere al momento 1 dai suoi 800 che costava è stata ridotta a 500 l'elefante da guerra invece è stato potenziato ovvero, prima aveva 20 di difesa, adesso ne ha ben 40 poi aveva 2000 di vita, adesso ne ha 3000 cioè, Cartagine a mio impatto ha subito veramente molto perché ha abbassato veramente di tanto il costo di certe tecnologie boh, poi vedremo in game come si comporterà all'aggiornamento invece in Gallia hanno portato veramente una piccola modifica ovvero nel guerriero prima il guerriero aveva pure l'abilità istruzione ovvero il guerriero riceve un punto di esperienza per ogni colpo inflitto a un nemico con più esperienza gli è stata tolta questa abilità in Germania invece anche qui una piccola modifica ovvero il guerriero prima costava 120 di viveri adesso ne costa solamente 80 poi, Roma Repubblicana allora, prima equipaggiare i carri costava 400 l'uno adesso ne costa solamente 300 poi invece nella tecnologia per produci ruota consente di equipaggiare i carri da guerra nella caserma dai suoi 4000 che costata è stata ridotta a 3000 invece in Britannia, nel Colosseo i giochi circensi ovvero tutti noi guerrieri ed eroi sono di livello 4 dai suoi 3000 denari che costava ne costa solo 2000 ora, nella taverna l'intercessione divina ovvero ti dà il 50% di possibilità di ottenere 2500 unità di viveri ed esplora una grande area intorno alla fortezza prima costava 2500 ora ne costa solamente 2000 l'esperienza divina ovvero quando un'unità elimina un nemico più esperto ha un 50% di possibilità di raggiungere il livello dell'unità prima era il 35% di possibilità quindi è stato aumentato la probabilità del 15% poi, come ultima cosa il lottatore Caledone prima aveva 18 di attacco adesso è stato aumentato a 20 e il suo prezzo è stato diminuito da 160 a 140 boh, per questo video è tutto vedremo in game l'aggiornamento che impatto avrà e boh, ci vediamo ai prossimi video